Grazie a Scucimarra a pescare il nuovo agosto in Chiedo i danni, uno spettacolo tra l'altro che avrà finalità benefiche. Sì, è una cosa alla quale tengo molto a dire e ricordare ai pescheresi. C'è uno spettacolo che noi facciamo per raccogliere fondi a favore di una comunità albanese presieduta, possiamo dire, guidata da Padre Pino che è stato per tanti anni sacerdote qui a Pescara e quindi ci teniamo in particolar modo per raggiungere questo scopo. Dobbiamo raggranellare soldi il più possibile per mandare questo aiuto concreto, reale a Padre Pino. E poi tengo moltissimo a dire che è uno spettacolo appunto in beneficenza, ma in memoria della mia adorata cugina Dede Di Miero Scucimarra che ci ha lasciato un po' di mesi fa e alla quale dedico questo spettacolo perché è l'unica cosa che ho da darle come ricordo e come onoreficenza. Ecco, voglio onorarla con uno spettacolo che lei non ha mai mancato di vedere da 35 anni ad oggi. Mancherà il 9 agosto. Questo spettacolo chiedo i danni. A chi chiede i danni? Un po' a tutti, ai politici innanzitutto, ma alla società in genere perché ciascuno di noi oggi ha diritto, ha maturato, ha un vero diritto a chiedere i danni sia in campo privato che in campo pubblico ma non mi tiro indietro nel senso che anche nello spettacolo dico chiedo i danni anche a me stessa in quanto cittadina, non mi posso considerare fuori dalla responsabilità per come stiamo, per le condizioni nelle quali viviamo e per le condizioni nelle quali versa la nostra società. Grazie. Grazie.